E alle 9.20 di questo mercoledì 26 luglio parliamo di caldo estremo perché quando si parlano di temperature alte i primi ad essere a rischio sono gli anziani e le persone fragili. Nelle persone fragili però non sempre consideriamo i bambini e gli adolescenti. Allora Save the Children ha in qualche modo comparsa questa notizia sul caldo estremo e soprattutto come nel mondo ci siano gravi impatti sulla salute, l'apprendimento scolastico, il benessere psicologico dei più piccoli e dei più vulnerabili, in questo caso bambini e adolescenti. Siamo collegati via Skype con Antonella Inverno proprio di Save the Children per commentare insieme questa notizia. Buongiorno Antonella, benvenuta. Ecco purtroppo non sento Antonella. Ok perfetto la vedo ma non la sento perché sono stati individuati questi 5 aspetti sull'impatto del caldo estremo sui bambini. Adesso li vedremo insieme. In queste giornate naturalmente il caldo torrido africano ha preso e in qualche modo ha conquistato le prime pagine dei giornali ma anche le notizie di apertura dei telegiornali. Vediamo se ora la sentiamo. Pronto Antonella mi senti? Buongiorno. Sono stati individuati quindi i 5 aspetti dell'impatto del caldo estremo di questi giorni oserei dire ma in alcune parti del mondo è così forse più mesi l'anno sui bambini e sui più vulnerabili, sugli adolescenti. Allora raccontaci, diamo qualche numero, diamo qualche dato in merito a questa notizia. Sì, purtroppo il dato più allarmante è quello che riguarda la probabilità di eventi estremi legati alla crisi climatica che è aumentata dal 9% in 20 anni proprio nel nostro paese. Ovviamente come diceva prima i più piccoli i bambini e le bambine rischiano i disagi più alti non solo in termini di salute e quindi di danni fisici immediatamente riscontrabili ma anche in termini di mancata istruzione e problemi che vanno più a lungo termine. La disponibilità di un'abitazione che metta a riparo da questi eventi per esempio. Sono nei primi 5 mesi per esempio del 2023 nel nostro paese c'è stato un aumento del 134% rispetto all'anno scorso di ondate di calore, cioè temperature molto più alte della media. E i centri urbani sono quelli che hanno un impatto maggiore rispetto a questo tipo di eventi che si verificano. Questo mette a rischio, come abbiamo detto, i diritti dei bambini e gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Dobbiamo capire che sono necessarie diverse misure. Da un lato azioni di mitigazione per minimizzare l'impatto negativo che il cambiamento climatico ha su bambini soprattutto più vulnerabili. Perché poi lo stiamo vedendo anche in questi giorni, le notizie ne sono piene, le città che subiscono i danni maggiori sono quelle, anche le aree che subiscono i danni maggiori, sono quelle dove si annida anche una maggiore povertà dei bambini e delle bambine, dove sono più vulnerabili. Dall'altro servono interventi di adattamento che prevedano anche politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza più decise. Dobbiamo attuare una transizione ecologica che includa interventi contro la povertà multidimensionale per i bambini, sempre le disuguaglianze e l'ingiustizia climatica. Tra le molto chiaro quello che hai detto, Antonella, ti do del tu, così rendiamo la conversazione più fluida. Stavo leggendo appunto sempre su questo pezzo molto interessante, comparso, l'abbiamo visto anche grazie alla nostra regia sul sito savethechildren.it e parlavi appunto di bambini che non hanno un'abitazione, ad esempio come i rifugiati Rohingya in Bangladesh. Oppure c'è anche il racconto di Giustina, 16 anni, dello Zambia, che dice quando fa così caldo svengo, come mi è successo la scorsa settimana. Quindi insomma anche l'interruzione dell'apprendimento scolastico, la fame, perché comunque a causa delle alte temperature c'è la perdita del raccolto, il disagio psicologico e poi diciamo anche la verità, l'impossibilità di giocare, perché con queste temperature diventa impossibile stare all'aperto. È quello di cui i bambini hanno bisogno. Assolutamente sì, come dicevo prima, gli eventi estremi meteorologici impattano non solo sulla condizione fisica immediata dei bambini e delle bambine, ma anche sulla fruizione e il godimento dei loro diritti fondamentali, a partire da quello a un sano sviluppo, quindi tutto quello che riguarda la possibilità di nutrizione e l'impatto sulla salute, ma anche a quello che riguarda diritti a cui noi siamo ormai abituati, perché ci sembrano essere il pane quotidiano della vita di bambini e bambini, per esempio andare a scuola, avere una salute mentale che permetta di crescere in maniera sana, poter avere una casa dove invitare gli amici, giocare all'esterno, tutti questi diritti sono messi a rischio dall'impatto che il cambiamento climatico sta avendo anche nel nostro paese. Quanti sono i bambini a rischio? Siete riusciti a fare un... Ma c'è stata una stima, sicuramente sono moltissimi i bambini e le bambine in tutto il mondo, a subire questi effetti o essere a rischio di subirli. Si tratta di milioni di bambini e di bambine sparsi in tutto il globo, perché poi sono rischi che a vario titolo e diversa misura coinvolgono molti paesi, sia del sud del mondo, ma anche quelli come stiamo vedendo proprio in questi giorni a reddito più alto. Certo, anche più vicini a noi. Qual è l'impegno di Save the Children su questo, per questo? Noi stiamo lavorando molto per portare la voce dei diretti interessati, bambini e bambine e soprattutto adolescenti, presso le istituzioni competenti. Non è più possibile che problemi che riguardano i bambini e le bambine vengano affrontati senza ascoltare direttamente le loro soluzioni. Proprio su questo tema, quello del cambiamento climatico, i giovani hanno dimostrato di mettere in campo un impegno che anche avevamo dimenticato nelle generazioni precedenti e che invece sta ritornando molto forte. Li vediamo nelle piazze, li vediamo anche in un attivismo digitale che però non è fine a se stesso, ma si riversa poi nelle azioni quotidiane che fanno ogni giorno, quello che cerchiamo di fare è non solo ascoltarli noi ma portarli proprio nei posti dove si decide, nelle riunioni internazionali con i capi di governo e devo dire che la loro risposta, quella dei ragazzi e delle ragazze, è sempre di un impatto molto forte e scardina anche i punti di vista degli adulti su questi temi. Grazie Antonella Inverno di Save the Children per essere stata con noi. Vi ricordo il sito internet savethechildren.it sul quale potrete appunto non solo leggere questa notizia ma anche le altre news e conoscere le attività di Save the Children. Grazie per essere stata con noi e alla prossima occasione. Grazie a voi. Salve.